straordinario e ordinario insieme perché la materia di quelle molto delicate dunque necessita di una prima risposta urgente e poi a breve distanza di una seconda riflessione più ponderata e per questo che il sinodo sulla famiglia che si svolgerà in vaticano dal 5 al 19 ottobre si presenta con una struttura doppia i 253 partecipanti che lunedì prossimo daranno vita con papa francesco all'assemblea nell'aula nuova del sinodo inizieranno a confrontarsi sulle sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione come recita il titolo di questo primo appuntamento sapendo già che l'intero percorso si concluderà nel 2015 con la celebrazione del 14esimo sinodo ordinario sul tema gesù cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia intanto promette il segretario generale del sinodo dei vescovi il cardinale lorenzo baldisseri misure innovative si vedranno già durante i lavori di questa prima tappa a iniziare dalla redazione del documento finale a questa novità che si tratta già di un documento che è stato diciamo posto in una in una chiave di programma cioè ci sarà come dire un'introduzione ci sarà quindi proprio e quindi non sono delle proposizioni sciolte questa questa è la differenza questo documento sarà votato in assemblea e poi sarà dato nelle mani del papa e questo secondo quello che è progettato sarà ecco il documento base per poter continuare il cammino il cammino sinodale verso l'assemblea del 2015 due tappe per rianunciare al mondo la bellezza della famiglia nella visione cristiana smarrita sotto il massiccio attacco di una cultura che in tanti ha disintegrato l'essenza stessa del valore del matrimonio coppie figli nonni ci sono domande nodali che spesso celano ferite invocano risposte pastorali concrete domande che il costante martellamento dei media rende più calde e impellenti è chiaro che quando c'è un tema così cruciale così sentito come la famiglia tutti noi siamo membri di una famiglia la passione diciamo anche quindi è forte e gli interessi che ci sono personali c'è un proprio anche un'attenzione allora ci sono problemi di carattere possiamo dire teologici canonistici che riguardano gli intellettuali e che devono naturalmente reagire e darci delle luci e dall'altra parte c'è la c'è la vita vissuta della gente che noi raccogliamo attraverso testimonianze scritte oppure orali testimonianze come quelle delle tredici coppie di sposi di varia provenienza che parteciperanno al sinodo uno spaccato del mondo che porterà nell'aula le luci e le ombre la carne e il sangue della famiglia del ventunesimo secolo è molto importante che ci sia un contributo da parte di tutte queste queste sfaccettature della società e delle culture in maniera che si possa fare veramente una grande sintesi potere anche trovare trovare delle 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 soluzioni che che già magari sono in germe esistono e qua e là e che hanno delle delle diciamo delle possibilità anche di sviluppo di vedere le cose in una maniera globale e questo ci aiuta quindi Grazie a tutti